abbiamo portato avanti dei progetti uno tra questi era la camarilla appunto che ci ha permesso salutiamo fiorello che sta ripassando caro fiorello presto metteremo un citofono da fuori in maniera che tu possa tipo suonare e dialogare perché io mi distraggo non c'è citofono da fuori bisogna entrare soltanto dall'altra parte forse adesso vengono ad aprire magari proprio per fare un saluto ai radioascoltatori che probabilmente non non ci crederebbero alla questione stavo proprio dicendo adesso che mi sento un po tipo amsterdam eccoci qua buonasera tutto bene tutto benissimo dicevo che stavo salutando vedendo ti vedi con riflesso non è semplice io mi sono paresato con la mascherina con tutte c'è mo che abbiamo preso le misure abbiamo riconosciuto stavolta molto bella in discesa è quello il problema tra l'altro tu ricorderai quando sei stato 94 qui in piazza con delle diciamo così rifrescarmi la memoria oggi sono andato su youtube ho detto fammi vedere un po ho cliccato ho digitato fermo 94 e c'è la puntata ci sono ci sono le amici fermani se volete vedere come eravate da giovani siete tutti in là ma soprattutto con quel codino ma ci sono alcuni personaggi di fermo adesso sono corti corti però insomma ci sono ancora ci sono ancora beh sei rimasto affezionato a fermo in qualche ma si tutte le marche sono dalle marche da tipo due mesi adesso dopo domani parlo dell'avventura quindi ti verremo a vedere a disposizione facciamo la foto di rito tutti insieme vi aspetta a teatro tutti ciao senti ma ti ruoveremo anche a sanremo stiamo leggendo di tutto guarda sappi 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 che noi seguiremo tutte le serate le commentiamo internos con un gruppo d'ascolto non si sa nel caso ti scriveremo su instagram se vedi crona che fermane la radio siamo noi e quindi ci potrai poi rispondere grazie grazie per la visita grazie per la devo dire che avere la diciamo così la vetrina a portata di mano risulta anche molto comodo perché vedete passare qui davanti insomma davvero ospiti inattesi lo possiamo dire ospiti inattesi e straordinari noi facciamo davvero tanti in bocca al lupo abbiamo provato a fare la foto ma dopo sei nominato sanremo è venuta mossa la foto si è venuta mossa la foto faccia foto mosse come quei pechegni è perfetto vabbè così sarà quel momento di movimento che appunto è anche caratteristico di fiorello perché lui è sempre dinamico sempre in movimento adesso è vulcanico sta preparando lo spettacolo esordisce dopo domani grazie